E' un richiedente asilo pakistano arrivato in Germania da un anno, l'uomo arrestato dopo l'attacco al mercato di Natale a Berlino. Sono queste le prime informazioni rilasciate da fonti della sicurezza tedesca all'agenzia di stampa DPA. La strage compiuta con un camion lanciato sulla folla del mercatino è probabilmente un attentato terroristico. Il mezzo è stato lanciato deliberatamente contro l'agente, spiega la polizia, confermando il bilancio preliminare di 12 vittime e 48 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Il principale sospetto, fermato a circa 2 km dal luogo della tragedia, è un 33enne conosciuto alla polizia per reati minori, ma non per una radicalizzazione estremista. La persona trovata morta nella cabina del mezzo, invece, era un cittadino polacco e non era la stessa che ha lanciato il camion contro gli stand del mercatino. Secondo il titolare dell'azienda proprietaria del camion sarebbe il corpo del cugino, l'uomo stava rientrando in Polonia dall'Italia e doveva fare tappa per una consegna a Berlino.